Questo mese ho avuto il piacere di lavorare con una ragazza con le palle Se non sai ancora chi sono le ragazze con le palle vai a cercare il video in cui lo spiego Uno dei suoi problemi era dato dal fatto che attraeva un esercito di pervertiti insicuri Ma non pervertiti come quelli che si nascondono dietro gli screen che ci inviate in posta privata Ma casi ben peggiori Il pervertito di basso livello non è una persona che ci prova con le ragazze molto sicure di se stesse e con tanta autostima Perché sa che sarebbe subito respinto e anche preso a calci nel sedere Il pervertito ci prova con ragazze meno curate e più sobrie Anche un po' insicure perché vuole penetrare dove l'autostima è più bassa E lui è già insicuro di suo Quindi se vuoi cercare di filtrare tutti i pervertiti di basso livello Devi fare una cosa Valorizzarti Metti foto in cui indossi il tuo vestito migliore Tacchi alti, un bel trucco e una bella acconciatura Questo allontana il pervertito di basso livello Perché penserà Questa è troppo bella per me Non mi darà attenzione Mmmmm Questa non mi guarderà neanche Dai lascio stare Il pervertito di basso livello viene spaventato e allontanato da una donna che si valorizza Usa questo trucco come insetticida e allontanare e respingere questa mandria di casi umani Grazie a tutti